Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi, oggi guardiamo quelli che sono gli indicatori fondamentali del mercato criptovalute, mi riferisco a Bitcoin e da un po' che non lo faccio ragazzi, ma andremo anche a guardare il nostro indicatore, il VAI, il West Accumulation Index, quello relativo alle balene un indicatore che in questo momento viene anche sviluppato in collaborazione con un nostro iscritto alla Trading On Academy che io ringrazio insomma per le informazioni e il lavoro che fa, lo vedremo alla fine di questo video perché è importante in questo momento andare a guardare quello che è successo nella scorsa giornata sui mercati delle criptovalute nell'underground ragazzi, non relativamente ai prezzi di Bitcoin ma relativamente alla blockchain, mi riferisco al crollo della difficulty di mining per quanto riguarda Bitcoin e dell'ash rate ragazzi perché è sceso veramente tantissimo, è normale? Sì, ovviamente perché il ribasso dei prezzi di Bitcoin porta a questo tipo di atteggiamento però andiamo a fare un po' di riflessione su quello che è questo momento particolare anche perché c'è una chicca ragazzi che non so se qualcuno di voi si ricorda però alcune criptovalute che vengono fuori dal protocollo Bitcoin, quindi mi riferisco al cash e a BSV non mi picchiate ragazzi, non mi date botte in testa perché ho pronunciato questi nomi va bene, non è per questo però, allora, queste due coin ragazzi faranno l'halving prima di Bitcoin e andremo a vedere perché l'halving è tra pochissimo relativamente a Bitcoin Cash e a Bitcoin Satoshi Vision, quindi SV perché è tra due settimane, quindi andiamo a vedere un po' queste cose andiamo a spulciare queste cose, andiamo a vedere gli indicatori importanti della blockchain di Bitcoin per capire anche una cosa, cosa un po' sta succedendo vi farò vedere poi alla fine del video il Wealth Accumulation Index quindi le balene, cosa hanno fatto in questi giorni di crolli adesso io faccio una sfida ragazzi prima di vedere questo video scrivetemi nei commenti cosa hanno fatto secondo voi le balene in questi giorni mentre il mercato collassava e poi un poco poco si riprendeva ma abbiamo visto neanche tantissimo cosa hanno fatto le balene? lo vedremo alla fine del video ma voi intanto scrivetelo nei commenti e poi vediamo chi di voi aveva ragione va bene? ok, allora facciamo un'altra cosa ragazzi vediamo anche un po' il grafico dietro di me che è Bitcoin, giusto per farvi vedere e poi passiamo subito all'analisi della difficulty che è crollata e andiamo a vedere i motivi passeremo a vedere l'ash rate e anche le transaction fee tutto ciò che sono gli indicatori che io utilizzo come analisi fondamentale di Bitcoin per quanto si possa parlare di analisi fondamentali di Bitcoin estremamente tra virgolette ragazzi allora il grafico purtroppo ragazzi c'è questa fase di ripresa ancora incomprensibile da un punto di vista di analisi ciclica ci avviciniamo alla fine del mese di marzo e quindi tra marzo e prima di aprile questo, tecnicamente questo ciclo dovrebbe andare in fase finale se non sarà così sembra che il mercato non abbia voglia tanto di scendere ma in realtà non abbia voglia neanche tanto di salire ragazzi non so se avete notato perché i mercati americani Standard & Poor's 500 sono tre giorni che galoppano in una maniera incredibile Bitcoin è palesemente alla finestra se i mercati SP500 dovessero ritracciare i mercati old in generale probabilmente Bitcoin subirà un po' di più quindi è molto debole forza relativa molto bassa in questo momento rispetto ai mercati old vabbè è un periodo strano ragazzi è un periodo di riflessione ma andiamo a fare un'altra view andiamo a vedere quello che era poi importante guardare in questo video ragazzi allora la difficulty ragazzi guardate un po' il change della difficulty in questa settimana quindi l'ultimo era avvenuto il 9 di marzo il 26 di marzo quindi circa due settimane dopo come sempre meno 16% quindi c'è il 95 ragazzi è una cifra enorme per Bitcoin non è un cambio della difficulty così tanto normale l'ultima volta che ha fatto una cosa del genere vedete non era neanche questa cifra si risale ai minimi del 2018 quindi i minimi storici degli ultimi anni del famoso mercato orso di Bitcoin nel 2018 quindi solo in quel caso abbiamo avuto vedete un crollo così insomma ci sono altri crolli vedete della difficulty di Bitcoin però in sostanza mai così pronunciati ma non è solo questo ragazzi quello che vi volevo fare vedere anche un'altra cosa cioè il fatto che la difficulty attesa quindi la next difficulty estimated vedete quindi fra 13 giorni e 20 ore circa è in cralo ancora una volta di un altro 15-16% ragazzi questo ve la dice lunga perché il mercato dei miners si sta adattando a quello che è il ribasso dei prezzi di Bitcoin quindi non è il contrario spesso e a volte è avvenuto anche il contrario magari i prezzi si sono un po' adattati a quella che era l'andamento e l'oscillazione anche del mining spesso si ci confonde quando si parla di halving e si dice ah ma i miners c'è il prezzo minimo sotto non si va ragazzi staccano le macchine e questo è il discorso allora il mining in questo momento ha staccato le macchine di produzione perché il prezzo di Bitcoin è crollato quindi insomma sappiamo che un po' Bitcoin è retto anche da questa logica dei miners però è anche vero che vedete un po' come il prezzo forse comanda anche sulla struttura perché in effetti ragazzi poi se noi produciamo un qualcosa qualsiasi cosa essa sia ma nessuno ce la compra a un prezzo alto io che faccio il produttore sono una impresa la prima cosa che faccio è chiudo le fabbriche o meglio inizio a produrre di meno quindi rallento l'offerta e per farlo ragazzi stacco le macchine licenzio il personale insomma ed è quello che fanno i miners in questo momento stanno staccando le macchine stanno staccando le macchine lo vediamo anche perché l'hash rate ragazzi vedete dall'ultimo numero che era 118 esa esce di potenza gigantesco ragazzi è una cifra incommensurabile però è una cosa huge diremo così è sceso a 99 e 59 ma vediamo che è sceso a 96 già adesso quindi continua a scendere in questo momento ragazzi vedete soltanto gli ultimi giorni vedete come sta sviluppandosi quindi questo è anche significativo di quello che sta succedendo quindi in questo momento circa 22 esa esce di potenza dai massimi sono stati spenti ragazzi quindi macchine spente per quanto riguarda i miners questo come influenzerà il prezzo ragazzi è un adattamento in basso purtroppo è così quindi questo però è normale ragazzi perché se io faccio il minatore non posso tenere accese le macchine che poi mi portano una produzione negativa e quindi ve lo ripeto è assolutamente normale però diciamo che in questo momento la blockchain e quindi tutte le macchine i miner si stanno adattando al nuovo prezzo di bitcoin prezzo che però non è ancora totalmente stabilizzato ragazzi e questo un po' mi preoccupa e vi passo all'altro grafico che volevo farvi vedere uno degli altri indicatori fondamentali che utilizzo spesso per guardare bitcoin vi ripeto fondamentali tra virgolette ragazzi sono degli esperimenti però è utile guardarlo sono le transaction fee ragazzi le transaction fee di bitcoin guardate il picco come sono salite negli ultimi giorni in particolare il rialzo è iniziato ovviamente dal 12 questo significa che nella blockchain c'è molto movimento ragazzi e per muovere i bitcoin per esempio da un wallet un hard wallet a un altro wallet che non sia magari un passaggio fra gli exchange questo questa transazione è molto costosa ragazzi in questo momento nella giornata di ieri era circa il 3,95 ma vi faccio anche vedere nelle ultime nelle ultime ore quindi nelle ultime 24 ore la transaction fee vedete intorno a 3,50 quindi leggermente ribasso quindi questo concetto ci dice anche un'altra cosa molto importante cioè che il prezzo non ha raggiunto un momento di stabilità altrimenti vedremo le transaction fee essere vicini alla loro media la media di solito di bitcoin ragazzi è intorno all'1 l'1,50% questa è la transaction fee media di bitcoin se sono più alte non sono altissime ragazzi non sono altissime perché a volte siamo andati anche a 14 quindi nei momenti di panico eccessivo però non sono neanche basse ragazzi e quindi questo significa che c'è ancora un momento di indecisione incertezza di instabilità del mercato il mercato è indeciso dove andare e poi vi faccio vedere infine quelli che sono la parte halving che vi accennavo prima vedete ragazzi allora l'halving di bitcoin avverrà tra circa 50 giorni ma bitcoin cash sarà il primo a sperimentare questa cosa perché farà un halving fra 13 giorni e 5 ore bsv invece fra 14 giorni questa cosa poi abbiamo anche ethereum classic che fa diciamo che ha fatto l'halving da poco ok allora questo tipo di di discorso cosa ci porta? ci porta ad avere un esempio ragazzi perché per la prima volta sul protocollo bitcoin shadow e 5 e 6 sull'algoritmo abbiamo un halving in questo caso delle due coin più piccole insomma gli spin off chiamiamoli così di bitcoin i fork e vedremo un po' cosa succederà su bitcoin cash quale sarà l'atteggiamento dei prezzi e avremo quanti cioè ragazzi quasi 40 giorni un mese e qualcosa di tempo per decidere un po' un po' quello che avverrà probabilmente quello che vedremo è un crollo in maniera drastica della difficolti di bitcoin cash e di bitcoin sv perché loro hanno una difficolti variabile a differenza di quella di bitcoin che fissa e cambia ogni 14 giorni questa cambia ogni blocco quindi si allineerà immediatamente al livello di prezzo di mining di bitcoin quindi immediatamente perché altrimenti perderebbero l'intera rete blockchain insomma vedremo questo meccanismo è anche simpatico insomma da vedere dal vivo questa cosa ragazzi però insomma avremo un esempio anche di quello che potrà succedere pre-alving io non ne ho ancora mai parlato dell'alving non è un caso ragazzi non ne parlo perché avete visto come il concetto dell'alving è stato assolutamente inutile da citare per le fluttuazioni di prezzo di bitcoin quindi per questo motivo forse dopo l'alving se ne potrà parlare di influenza sul prezzo ma lo vedremo in un altro momento bene siamo passati a tutti i nostri grafici tutti i nostri dati fondamentali adesso andiamo a guardare cosa hanno fatto le big whales e vi ricordo per chi è nuovo del settore big whales sono le balene le più grosse quelle che detengono più bitcoin nel loro wallet che cosa stanno facendo andiamo a vedere i nostri indicatori tutti gli indicatori che vedete adesso ragazzi sono pubblicati nella trading on academy giornalmente quindi tutti gli iscritti alla mia academy premium hanno accesso a questi dati da sempre li discutiamo costantemente trovate il link in descrizione del video se volete informazioni su questo super gruppo di trader professionisti che ci scambiamo tutte queste idee andiamo a guardare quelli che sono i dati allora ragazzi vi faccio però prima vedere la top 100 allora questa è la top 100 delle balene ragazzi questo grafico che vedete qui su e questo è il prezzo di bitcoin allora quello che vedete qui è un atteggiamento abbastanza simpatico ragazzi ok allora che sia chiaro ragazzi non possiamo trarre delle conclusioni eccessivamente ottimistiche su quello che vediamo qui perché è palese che il trend delle whales delle balene è rialzista ragazzi quindi stanno accumulando questo è abbastanza evidente però ragazzi attenzione perché le whales fanno anche da tampone al mercato quando i retail escono fuori qualcuno si compra bitcoin spesso questi bitcoin confluiscono nei wallet delle quelli grossi quindi delle whales proprio delle balene proprio perché li usano per tamponare un po' la fuoriuscita quindi mettono un blocco in sostanza quindi sì e no però è innegabile ragazzi quello che è successo guardate bene che la stessa cosa è successa su alcuni titoli del mercato old stranamente venduti pochi giorni prima del crollo ragazzi da alcuni grandi amministratori delegati delle più grandi aziende americane allora guardate un po' qui questa era una fase di ribasso consolidamento che già durava da prima quindi non è che la vedete qui in questo momento poi da qui inizia una fase di recupero e poi di nuovo di accumulazione in sostanza con i minimi guardate un po' quello che succede da qui quindi bitcoin viene venduto in questa zona crasha e incominciano a comprare vedete entrano tutte qui dentro e stanno accumulando quindi questo rialzo tecnicamente confluisce nell'accumulo delle 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 balene queste sono le top 100 ragazzi guardate come l'hanno fatto in maniera precisa allora noi abbiamo già visto questo grafico già da un po' in academy però volevo rendervene partecipe insomma anche a voi vi faccio vedere anche quello delle top 200 le top 200 sono le 200 balene con i più ampi numeri di bitcoin quindi con i wallet giganteschi di bitcoin quindi un po' più allargato questa view ci dà una visione del mercato anche un po' più piccolino quindi le 100 whales che sono ricche ma non ricchissime come le prime diciamo così va bene guardate ancora una volta e qui si vede anche un'altra cosa ragazzi la struttura di accumulazione è spalmata perché vuol dire che le top 100 accumulano di più vedete che è più ripida mentre le top 200 accumulano di meno perché evidentemente sono più le top 100 whales che stanno accumulando questo per via del fatto come vi ho detto prima che ci sono gli exchange dentro che magari fanno da tampone allora vedete fino a qua stesso identico discorso più o meno sono fatto io le mie solite linee terribili e poi vedete la struttura di accumulazione crescente del vai vedete come accompagna il prezzo ma non del tutto ragazzi quindi questa è una bella punto di riflessione un bel punto di riflessione per tutti per valutare quello che è l'attuale situazione del prezzo forse per le balene questo prezzo è un buon prezzo di acquisto c'è da chiedersi poi però ragazzi se le balene in effetti acquistano perché vogliono portarsi a casa magari un rendimento da trading o semplicemente stanno accumulando bitcoin per il lunghissimo periodo quindi non è detto che l'influenza di questo atteggiamento sul prezzo sarà da qui a domani ma magari potrebbe essere intelligente un'influenza magari positiva nel lungo periodo c'è da dire anche ragazzi che questo indicatore va tenuto sotto stretto controllo continuamente perché se domani incominciano a vendere e l'abbiamo visto diverse volte in academy ragazzi questo atteggiamento beh insomma allora è possibile che magari si aspettano un ulteriore aggiustamento del prezzo di bitcoin come avete visto bene vi ho detto tutto quello che sapevo sui mercati per l'analisi fondamentale degli indicatori tecnici di bitcoin io vi ringrazio ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un mi piace perché questi sono dati ipersensibili chiamiamolo così e soprattutto di grande aiuto a tutti voi e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao